ragazzi continuiamo ad iscriverci al canale tutto gratis attiviamo la campanellina perché bisogna arrivare ai diecimila noi siamo ottomila questo è un canale giovane che ha già fatto quattro milioni e due di visual me ne vanto non è solo grazie a me anche grazie a seven up a tutti i ragazzi del team i meriti non sono sono miei sono anche di loro questo va riconosciuto va detto ma i nostri ottomila equivalgono ai cinquantamila di qualcuno che ormai fa live con duecento persone perché noi io ho improvvisato una live a mezzanotte e mezzo eravamo in quattrocentotrenta il doppio di loro che hanno cinquantamila iscritti capisci che noi siamo ottomila ma siamo potenti noi siamo persone che lo sanno usare capito il potere noi siamo ottomila ma si fa molto più rumori dei cinquantamila di qualche di un altro lo capisci che sono i quattro piccioni live ormai l'hai visto pif l'hai visto pif? no pif non l'hanno visto qui a Firenze non c'è tra l'altro devo fare una precisazione una precisazione oltre al fatto che ci sono degli interisti o presunti tali che godono quando leggono pif Juventus voi siete dei gobbi mancati perché a voi dell'Inter non ve ne frega nulla a te mi devi trovare un interista che legge pif Juventus e che ride che è contento ma perché perché come ho detto ieri sera loro ormai l'Inter l'hanno messa da una parte a loro dell'Inter non gliene frega nulla loro vivono per smentire noi ma tanto ci rimarrete male e io vi do un consiglio per l'ennesima volta mettetevi l'anima in pace fate altro qualcosa per il sociale aiutate le vecchiette a fare la spesa donate un po' di soldi ai centri anziani andate in un canile e portate a spasso un cane non ci state su youtube datemi letta tanto è tempo buttate via tempo e basta e anche a rompere i coglioni a me buttate via tempo la precisazione da fare mi ha notato è che le parole di Ranucci di Report praticamente erano rivolte a quando ci fu l'accordo dei 150 milioni per disputare quattro delle sei finali di Supercoppa e lui due sede fa dice che i sauditi iniziarono a trattare l'acquisto di un club italiano quindi lui parla dell'anno scorso e poi vedremo come andrà a finire Renzi ha smentito la Fiorentina Renzi si è scordato che gli arabi nel calcio italiano hanno già investito io non voglio dire che Renzi lo chiamano Pinocchio a Firenze o Mr. Bean perché a Firenze scherzano tutti ridono ma non è un'offesa io di Renzi non voglio nemmeno parlare non voglio entrare in politica ma eh Renzi non può parlare per i sauditi e nemmeno per gli arabi quindi non gliel'hanno fatto fare ad Amanda tutta panna pensa se glielo fanno fare a Renzi quindi Renzi tra l'altro non ha più nemmeno eh diciamo collaborazioni con Bin Salman quindi basta queste sono cose che poi vedremo non ci sono problemi ma vedere tifosi tifosi interisti che si spacciano per tifosi interisti o presunti tali che godono quando leggono Piff Juventus è uno schifo è uno schifo andiamo di calcio ho letto stamattina Inzaghi migliora gli attaccanti ed è assolutamente vero questo gli fa riconosciuto ragazzi da Immobile a tanti altri attaccanti che ha avuto che ha migliorato ma anche da anche con i centrocampisti di qualità lui comunque ha ottenuto degli ottimi risultati perché dallo stesso Luis Alberto che arrivò alla Lazio come quasi meteora lo stesso Cialanoglu giocatore incostante che ancora non aveva un ruolo ben definito quindi bisogna riconoscerle queste cose anche se a me Inzaghi non piace più di tanto ma io devo essere onesto e devo dire che è vero quello che scrivono stamattina perché lui migliora sia i centrocampisti di qualità ovviamente non tutti ma ci è riuscito con dei giocatori facendoli diventare e facendoli risultare decisivi per le proprie squadre e con gli attaccanti ti faccio un esempio lampante come ha gestito Lukaku lui non lo ha gestito nessuno meglio di lui ma perché indipendentemente dall'infortunio no di Miglio Verde quando lui tornò dall'infortunio che tra l'altro da gennaio ad aprile faceva ridere che era lì a chiedere scusa sempre alla curva ripeto era più il tempo che Lukaku impiegava a chiedere scusa che a quello che impiegava nel pensare a giocare ok Inzaghi come l'ha gestito Lukaku il titolare chi era nei big match ed Ingeco ha 37 anni e Lukaku quando giocava o entrava a partita in corso al settantesimo oppure giocava contro le squadre di medio basso livello perché è lì dove lui veramente bravo Lukaku nelle partite di livello medio basso ed Inzaghi è lì che l'ha fatto giocare ed è lì che lo ha impiegato perché ha capito come impiegarlo infatti perché io non ti sto dicendo che Lukaku è il peggior giocatore sulla faccia della terra Lukaku è un giocatore decisivo contro le squadre di medio basso livello ma appena si alza il discorso Lukaku sparisce ed è questa la sua storia perché lui durante la sua carriera ha fatto il 14 per cento solo il 14 per cento dei gol decisivi dei big match compresi i match europei ma di cosa ragioni non lo so dove i cinese te l'ho già detto 40 volte è inutile mi bombardi giusto dove i cinese non lo so dove i cinese Tiago Gialò c'ha questo problema si è rotto il crociato ma è un ragazzo del 2000 quindi un conto quando si rompe un crociato ragazzo del 2000 un conto è quando si rompe uno del uno del 90 quindi è un ragazzo che ancora tutto il tempo davanti per recuperare sta recuperando piano piano non gioca da tanto tempo ma questo è un calciatore che ho visto giocare tante volte e a me piace tantissimo perché è veloce perché è forte sull'uomo perché ha un'ottima uscita palla può giocare in un ruolo nevrangico che è quello di acerbi perché ragazzi per giocare nel ruolo di acerbi serve solo abilità nel marcare l'uomo serve cervello come serve altrettanto cervello per giocare play attenzione sono ruoli difficilissimi giocare nel mezzo della difesa a tre tiago Gialò ha una caratteristica importante oltre ad essere veloce e rapido bravo nello scappare all'indietro forte sull'uomo sempre attento durante la partita si spinge in avanti fa gol di testa è molto forte quello che lo contraddistingue dagli altri difensori che lui quando esce con la palla riesce all'umiltà per fare anche la giocata facile perché la tecnica che a lui gli permetterebbe anche una giocata difficile come spesso scusate scusate hai visto Piff ha l'umiltà per fare l'uscita palla e per fare la giocata facile quindi tiago Gialò è un grandissimo prospetto e a me piace tanto ma tanto ma tanto spero che l'inter lo prenda facciamo veloce poi zieliski zieliski è un giocatore che a me piace però è anche lui è un po' incostante nel 3 5 2 di in zaghi ad oggi ce lo vedo poco però in zaghi è riuscito come ho detto prima a far rendere in certi ruoli giocatori come Luisa Alberto ce l'hanno quindi potrebbe riuscire anche un zieliski a zero perché no è un bel giocatore ci mancherebbe lo prendo volentieri quindi è un centro a pista di qualità ed in zaghi ogni centro a pista di qualità ci sa lavorare molto bene il calendario ragazzi ora incomincia ad essere un po' più complicato perché c'è la juve c'è l'Atalanta poi di mezzo c'è il Frosinone c'è il Napoli c'è l'Udinese me le sono segnate quindi bisogna stare molto sul pezzo davanti siamo contati la scelta di turam di venire all'inter secondo me tornando a quello che ho detto di in zaghi perché gli va riconosciuto non lo so dove è cinese ma a in zaghi gli va riconosciuto che comunque lui gli attaccanti li migliora molto è riuscito a far far 30 gol a immobile che era un attaccante ibrido i primi tempi della Lazio immobile no poi dopo è diventato capo cannonieri della serie a parentesi in germania si fece benino ma non fece le buche in terra secondo me liliam turam che era in tribuna l'altra sera a san silo ha indirizzato il figlio all'inter anche per in zaghi attenzione perché in zaghi comunque molto bravo nel migliorare gli attaccanti e io ti dico ma voi lo sapete benissimo perché io non sono uno youtuber io non sono un espertone io sono un tifoso come voi ricordatevelo sempre ma turam si vede che nei movimenti è migliorato molto sta migliorando molto e migliorerà ancora di più e ti dirò un'altra cosa non bisogna scordarsi che al signor turam sono stati annullati due gol per cinque centimetri uno contro l'Empoli e uno in Spagna con rialza la gozza che è entrato lui ha schiacciato in difesa rialza la gozza e poi siamo riusciti a pareggiare quindi di cosa vuoi ragionare non lo so dov'è i cinese te lo ripeto ci becchiamo più tardi ciao grazie a tutti grazie per aver guardato il